Elezioni comunali 2021, Roma, vogliamo parlare di rinascita culturale. Lo facciamo con Raniero Pizza, candidato nella lista civica Gualtieri Sindaco, socio e direttore artistico del Monc, uno dei centri culturali più importanti della capitale. Viviamo in un periodo dove la pandemia ha accentuato tutta una serie di criticità del settore culturale, soprattutto a livello privato, associazionistico, piccole e medie realtà. Bisogna far sì che questi posti siano incentivati a nascere, abbiano la possibilità di lavorare in tranquillità, rischiando con il proprio lavoro, il proprio investimento e tutto, ma avendo tempi certi, avendo una burocrazia che li assiste, che li segue, che non sia di ostacolo come è sempre stato in questa città e che ci sia disponibilità di spazi, sia a livello demaniale, sia a livello pubblico che vengono messi a disposizione durante l'anno per fare attività. E oltre alla rinascita culturale in giro per la città, i suoi vari spazi, dalle piazze alle ville storiche, ai parchi, fino al litorale, l'idea è quella di cercare di riportare i festival di livello internazionale in questa città, che mancano da troppo tempo. Per fare questo è necessario coltivare il sottobosco, l'underground, tutte le realtà indipendenti, perché da questo fiorire poi possono nascere consorsi che possono fare festival. Bisogna riportare anche gli sponsor la possibilità di investire e ritorniamo al discorso di tempistiche certe, burocrazia a disposizione, tirar fuori anche dai cassetti istituzionali, sponsor istituzionali che vengono messi a disposizione di progetti che vengono valutati a livello di qualità alti. Questo è necessario per far sì che possano tornare questa serie di iniziative nella nostra città. Il sindaco della notte è un altro dei punti che sta nel programma di Qualtieri, che esposo totalmente, che potrebbe essere una figura super interessante su una città come Roma, già in atto in altre capitali europee, da Parigi a Berlino a Londra. Praticamente una persona che abbia dei poteri, abbia uno staff all'altezza, composto da personalità che si muovono nel mondo della notte, che si occupano di moda, di eventi, di comunicazione, di architettura, di urbanistica, per poter cambiare e facilitare la vita a chi lavora di notte, a chi si muove di notte, a chi vive la notte, perché molte volte si dice vogliamo Roma una città aperta 24 ore al giorno, però poi non siamo disposti ai compromessi che tutto ciò comporta. Le imprese e le associazioni private che si muovono sul territorio di Roma, che è super vasto, ogni municipio potrebbe rappresentare una città praticamente, hanno difficoltà a poter dialogare con le istituzioni. Se non investiamo sull'aspetto culturale, sull'aspetto del lavoro che è legato alla cultura in maniera centrale, questo tipo di clima non si può ricreare. Bisogna lottare per far sì che nascano e si possano sviluppare e non abbiano impedimenti o barriere i vari spazi, le varie realtà, ripeto, anche dal basso, anche piccolissime, che operano nel territorio, perché costituiscono dei presidi, dei presidi contro la lotta al razzismo, dei presidi contro le marginalità sociali, dei presidi contro le criminalità. Se vogliamo una città sicura e che sia aperta 24 ore al giorno, dobbiamo far sì che ci sia un clima di rinascita culturale. Non solo di rinascita culturale, ma anche legata al turismo. C'è tutto un turismo legato alla musica, al clubbing, ai festival, che si muove in giro per l'Italia, che va all'estero ed è fondamentale riportarlo anche a Roma, far sì che ci sia un terreno fertile a Roma, dove questo tipo di iniziative possano svolgersi, crescere, moltiplicarsi nel tempo. Faccio l'esempio di Torino, che da ottobre a dicembre ogni settimana ha un festival. Noi a Roma, no, non ce l'abbiamo ancora. Quindi per arrivare a questo bisogna stravolgere le carte in tavola, bisogna essere coraggiosi, bisogna far sì che ognuno o chi abbia dei privilegi in questo momento li metta da parte al servizio della comunità, perché ricordiamoci sempre che siamo una grandissima comunità.